Dal punto di vista organizzativo, per ciò che concerne in particolare la grande novità di quest'anno, e cioè l'introduzione del ticket d'ingresso alla manifestazione, all'ufficio turistico del Comune di Sciacca è iniziata oggi la consegna dei pass a residenti e commercianti del centro storico che rientrano nelle categorie esentate dal pagamento. Lunghi attese, come era prevedibile, si spera possa andare meglio nelle prossime ore. E' con Mauro Piro della Futuris che abbiamo fatto il punto della situazione riguardante questo ed altri aspetti della manifestazione. Sta andando come dovrebbe andare, per il verso giusto, anche perché, come dicevo anche negli scorsi giorni, quella che ci stiamo apprestando, quella che stiamo portando avanti è una rivoluzione epocale per il Carnevale. È il primo Carnevale della storia con delle transenne, quindi con un ticket, e noi stiamo facendo assolutamente di tutto per far sì che questo passaggio sia quanto meno indolore possibile. Oggi è iniziata la procedura, grazie ai nostri addetti, vi ricordo che potete trovare i pass sia per i residenti che per i commercianti e per le attività lavorative che insistono nel circuito all'ufficio turistico, sia mattina e pomeriggio fino a giovedì, e dopodiché potete contattare la segreteria del Carnevale di Sciacca, l'indirizzo segreteria chiocciolacarnevalesciacca.it per tutte le ulteriori esigenze. Stiamo davvero dando il massimo e stiamo facendo sì che tutto possa andare per il verso giusto. Le vendite di ticket e abbonamenti come sono andate finora? Molto molto bene, devo dire abbiamo grandissime richieste sia su ticket sms, quindi sul portale di vendita online, sia con i cartacei, che gli abbonamenti cartacei sono in giro per Sciacca, li trovate prevalentemente tutti i tabacchini, i tabaccai della città, quindi sono più o meno più di 25 punti vendita, quindi potete trovarli. Io ricordo sempre che gli abbonamenti, soprattutto per i residenti, verranno ritirati il giorno 21, quindi il primo giorno della sfilata, il venerdì, quindi per tutti coloro i quali volessero acquistare gli abbonamenti è giusto apprestarsi, e affrettarsi ad acquistare l'abbonamento perché poi sarà possibile solamente acquistare il biglietto giornaliero. Il palco di Piazza Angelo Scandaliato nel frattempo è stato già ultimato. La Futuris ha voluto apportare quest'anno delle novità e la struttura è pronta ad ospitare tutte le esibizioni in programma nelle sei giornate di festa. Siamo orgogliosi di questa novità che abbiamo deciso con la Futuris di implementare. C'è un palco assolutamente rivoluzionario e nuovo, ci avevamo provato già lo scorso anno e quest'anno stiamo ancora mettendo a punto, c'è un enorme muro ledwall che darà un effetto ancora più spettacolare alla piazza, però permettimi qualche chicca me la voglio mantenere per la manifestazione. Cercheremo di dare un grande spettacolo, soprattutto come sempre mettendo al centro quelle che sono le manifatture, quindi il carnevale, i carri e soprattutto le peculiarità del nostro carnevale, inni, musiche, coreografie e copioni e poi avremo anche i nostri live, come abbiamo detto avremo tanti ospiti e spettacoli. Sarà un gran bel carnevale, ce l'auguriamo. Il trasferimento dei carri in via Cappuccini che ha preso il via questa mattina rappresenta l'ultimo atto prima della festa e anche quest'anno dal punto di vista artistico si annuncia un carnevale con carri allegorici di elevata qualità. Noi siamo contentissimi come organizzazione di quello che è stato il lavoro dei carristi, che anche quest'anno, e permettimi di ricordarlo, in condizioni davvero complicate come quelle delle strutture, hanno portato avanti un lavoro egregio e abbiamo cinque carri di categoria A e due minicarri, scusatemi, e il Peppennap che sono di assoluta qualità e io credo che ne vedremo delle belle per il corso mascherato.